Il sepolcro che abbiamo fatto quest'anno per il giovedì santo 2015 è un sepolcro molto semplice e quasi stilizzato che si attisce alla nostra chiesa moderna di San Gordiano. Abbiamo messo il tabernacolo, logicamente che è il centro, l'Eucaristia, un tabernacolo fatto da un nostro parrocchiano, tutto argentato, poi abbiamo voluto mettere sopra una croce anch'essa fatta da una nostra parrocchiana e poi sotto abbiamo riprodotto il pannello del sepolcro, il sepolcro che già però è inondato di luce, segno che in realtà questi giorni di passione sono già giorni che si proiettano alla risurrezione di Gesù. Poi sotto abbiamo voluto mettere la corona di spina, i segni della passione, il pane, il pane appoggiato per terra e il tutto è attorniato di queste colonne che riprendono un po' le colonne quasi di un antico tempio, di un tempio che significa poi il tempio che siamo noi persone dentro dello Spirito Santo.